Musica Ben ritrovati con il TG Venezia di Caffè TV 24. All'indomani dell'annuncio del ritorno da qui a 4 anni delle grandi navi in marittima si riaccende lo scontro politico che vede schierata la sinistra lagunare contro il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sul porto si sta proseguendo sulla linea che ho sempre sostenuto e che ha trovato l'appoggio dei cittadini veneziani, dichiara il sindaco Brugnaro, che poi sottolinea. In particolare, la soluzione prevede che le navi da crociera non passino più davanti al bacino di San Marco, ma che entrino direttamente dalla bocca di Malamocco. Quelle più grandi accosteranno a Marghera, mentre quelle più piccole raggiungeranno la stazione marittima attraverso il canale Vittorio Emanuele, come riportato nel programma presentato all'UNESCO. Per Brugnaro si tratta della dimostrazione che lo sviluppo sostenibile è possibile se si trovano soluzioni che coniughino lavoro e ambiente. Da parte sua, il Partito Democratico continua a definire invece l'intervento una violenza. Il progetto degli scavi Vittorio Emanuele rappresenta una scelta sbagliata in contrasto con la tenuta dell'ecosistema lagunare, affermano Monica Sambo, segretaria comunale, e Matteo Bellomo, segretario metropolitano del PD, che aggiungono Oltre al danno ambientale, gli interventi predisposti dal sindaco rendono ancora più difficile il conseguimento dell'obiettivo di portare le grandi navi fuori dalla laguna, progetto da sempre contrastato da Brugnaro, che continua a presentare Venezia come la capitale mondiale della sostenibilità, mentre il suo agire va esattamente dalla parte opposta. Ad aggiungersi alle proteste del PD sono arrivate poi anche quelle del capogruppo di tutta la città insieme, Giovanni Andrea Martini, e del consigliere di Municipalità di Mestre, Michele Boato, entrambi decisi nel voler contrastare a tutti i costi il progetto di Brugnaro per il bene, dicono, della città e dei suoi cittadini. Restiamo a Venezia per parlare di un tema che nonostante l'imminente arrivo della stagione autunnale continua a rimanere caldo. Continuano a registrarsi infatti i casi di borseggi nella Serenissima, tanto che nei giorni scorsi la polizia locale ha deciso di aumentare i controlli, mettendo in campo un sostanzioso numero di agenti, sia in uniforme che in borghese. In totale gli agenti sono riusciti a cogliere in flagranza di reato cinque borseggiatrici. Il primo intervento si è registrato verso mezzogiorno all'interno della stazione di Santa Lucia. Tre donne, già note alle forze dell'ordine e tutte in stato di gravidanza, sono state sorprese mentre tentavano di rubare un portafoglio a un turista argentino nei pressi delle bigliatterie automatiche. Si trattava peraltro di un bottino particolarmente ricco, visto che l'uomo aveva con sé ben 5.000 dollari. Fortunatamente l'azione è stata interrotta dall'immediato intervento degli agenti. Un'altra operazione simile si è svolta verso le 18.30 di domenica nell'area di San Moisè, dove le due borseggiatrici, sempre in stato di gravidanza, sono state sorprese a derubare un turista lituano. L'area furtiva, in questo caso, ammontava 1.200 euro. Per cercare di fuggire all'arresto, le due donne si erano rifugiate all'interno della chiesa di San Moisè, ma ad avvisare la polizia locale è stato proprio il parroco. Gli agenti sono arrivati sul posto subito dopo e le due borseggiatrici sono state denunciate in stato di libertà. Non è tutto, però. Infatti, ieri, una coppia di turisti, rapita dallo spettacolo di Piazza San Marco, quasi non si era accorta del borseggiatore, che dopo aver aperto la cerniera di uno dei loro zaini, era sul punto di sfilare e impossessarsi il loro portafoglio. Un movimento troppo brusco e l'intervento di una guardia giurata che aveva assistito alla scena da lontano hanno destato i due turisti dal loro sogno ad occhi aperti, riportandoli alla realtà in men che non si dica. Messo in fuga il ladro e recuperato il portafoglio, il vigilante ha chiamato il 113, raccontando alle volanti lagunari quanto accaduto. Grazie alle testimonianze, i polizotti sono riusciti a recuperare i video delle telecamere di sorveglianza e attraverso le immagini a ricostruire la dinamica del tentato furto. A quel punto è stato possibile identificare il responsabile che è stato rintracciato dalle volanti dopo alcune ore. L'uomo è stato dunque arrestato dalla polizia e denunciato per furto aggravato. Spostiamoci ora nel comune di Mirano, dove da oggi 25 migranti arrivati in Italia attraverso le rotte del Mediterraneo verranno ospitati nell'ex scuola di Caorliega. Considerata la disponibilità nel nostro territorio di una struttura adeguata come quella di Caorliega, abbiamo accolto immediatamente l'invito del prefetto, ha commentato il sindaco Tiziano Baggio, che aggiunge ci teniamo a dimostrare con i fatti quanto Mirano sia e voglia rimanere sempre una città accogliente e solidale, ma anche per rispondere attivamente alla delibera del Consiglio dei Ministri che dall'11 aprile scorso ha dichiarato lo stato di emergenza. Le organizzazioni di volontariato daranno il loro contributo attraverso l'organizzazione di progetti educativi, dei quali lo stesso comune sarà parte attiva. Mirano già da anni ospita una struttura del sistema di accoglienza integrato, sai, che assiste gli stranieri nel loro percorso di integrazione e una sede del centro provinciale di istruzione per adulti, dove le persone, in gran parte straniere, hanno la possibilità di ricevere una formazione e di imparare la lingua italiana. Mirano è e rimarrà una città accogliente, continua e ribadisce il primo cittadino, che conclude, voglio ricordare che si tratta di un fenomeno umano che in passato ha riguardato anche i nostri nonni e le nostre nonne e che deve essere accettato con umanità senza abbandonare le persone a loro stesse. Ad oggi sono quasi 2.000 gli stranieri che vivono a Mirano e che danno il loro positivo contributo alla vita sociale ed economica di questa città. Veniamo ora all'ultima notizia di oggi per ricordarvi che domani alle 12 tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Veneto suoneranno contemporaneamente emettendo un suono particolare diverso da quelli delle notifiche a cui siamo abituati a cui verrà associato un messaggio di testo. Si tratta di una simulazione del nuovo sistema di allertamento pubblico IT Alert che in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo, incluse quelle sanitarie, potrà avvertire con un click tutta la popolazione. È uno strumento molto importante spiega il governatore Luca Zaia che non sostituisce quelli esistenti ma che ci aiuterà a mettere in guardia le persone in caso di pericolo. Al momento IT Alert è ancora in fase di sperimentazione e riguarda solo alcune tipologie di eventi come maremoti generati da attività sismica, collasti di grandi dighe, attività vulcaniche relative ai vulcani Vesuvio, campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti e precipitazioni intense. E anche per questa edizione è tutto. Vi lascio ora ai prossimi programmi di Caffè TV 24 e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!